Colazione marocchè Io questo uovo così non sto a mangiare Lo mangio io? Sì L'arancia, il pane E' una briochina Una briochina Talmente tanta roba che non si riesce a riprendere La storia Sì Bismillah Cia l'olio Chia l'olio Chia l'olio Poi Chia l'olio Chia l'olio Chia l'olio Sonri c'è un po' di arancia, caffè... c'è un ingrisso e un mini briochino caffè espresso c'è un ingrisso e un ingrisso ok aspetta che... no, non vi... ah, si si, bravo pane caldo questo è un po' tutto per carrozzino ma... 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 buono è buonissimo è buonissimo ma questo non è la colazione ma questo non è la colazione Grazie a tutti. 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 Buon caffè. Buon caffè. Molto. Molto buoni. Devo dire saporito. Buon. Buon caffè. Buon caffè. Grazie a tutti. Grazie a tutti.